Tunisiani mi vedete qua con l'inventario della creativa no? Non della creativa scusate, con l'inventario enorme, insomma avete capito no? Con questo inventario, perché siamo nel nether, perché questa è una nuova serie dove praticamente noi dobbiamo sopravvivere nel nether per più di un episodio e possiamo andare nell'overworld solo per poco e voi starete pensando tipo ma Tunis ma sei pazzo, come fai a sopravvivere nel nether senza diciamo andare nell'overworld? E non lo so nemmeno io, guardate che sarà difficilissimo allora per tipo prendere il cibo non possiamo usare per niente la creativa ovviamente, non possiamo usare assolutamente la creativa, non possiamo tipo là c'è uno scheletro, dobbiamo ucciderlo, dobbiamo combatterlo, per forza, se moriamo è finita la serie oppure stiamo morendo di fame e dobbiamo andare ad uccidere i piglin, i piglin, insomma i tizi là che ti dà, avete presente che là i piglin ti danno la carne marcia ecco la carne marcia praticamente la puoi usare per mangiare, quindi sarà una cosa super complicata, infatti secondo me non resisterò nemmeno un episodio perché è insomma l'hardcore, l'hardcore mica, mica fraffa farfar eh, non so se avete capito, l'unica cosa che possiamo fare con i comandi no magici è quella di mettere tipo la night vision perché sennò voi non vedete niente giustamente, quindi adesso lo faccio io direi che però per ora ho un problemino piccino piccio, perché, perché cioè nel senso scusatemi eh, ma come caspita facciamo ad uccidere un piglin che è quello appena, appena si volta, appena ci dà una manata ci ammazza io ho un'idea, posso avere, ok ho un'idea, perfetto, so come uccidere un piglin allora praticamente voi sapete che qua ci sono tutte queste rolle, però dobbiamo stare attenti oh è vero, forse dobbiamo avere l'oro scusatemi allora veloci, veloci facciamo così allora forza eh, non possiamo permetterci di essere uccisi ok vedete, allora praticamente qua cos'è che c'è? ok, perfetto, perfetto, adesso tutti quanti verranno da me, vedete? e noi utilizzeremo questo stratagemma, eh, per poterli uccidere con la spada in legno, noi stiamo uccidendo con la spada in legno dei piglin o come caspita si chiamano perché, non lo so, mo, sono cambiati tutti i nomi, tutto un casino diverso però tranquilli che adesso li uccideremo tutti, a parte che stanno facendo un casino, no, tipo i maiali schifosi, mamma mia, aiuto ma eh, ma volete morire? eh, sono veramente impossibili da ammazzare con la spada in legno comunque mi ha, avete visto quanto mi ha tolto? cioè voi avete visto, vero, quanto mi ha tolto? cioè mi ha tolto praticamente quasi tutta la, io sono rimasto con tipo tre cuori, mi pare cioè voi vi rendete conto di cosa significa prendere un singolo piglin che si arrabbia? è letteralmente impossibile cioè, è impossibile allora qua non c'è, non ci sono più piglin ma mo, se io vado là sotto se io vado solamente per qualche secondo là sotto io sono sicuro di essere morto praticamente a meno che non utilizzi sempre lo stesso stratagemma cioè tipo andare nelle caverne, eccetera dobbiamo utilizzare tutti gli stratagemi le strategie, no? perché altrimenti non possiamo sopravvivere in questo in questo nether per forza dobbiamo usare queste strategie donisiani allora adesso mangio la carne che mi ha dato e fa schifo, infatti mi ha dato fame vabbè, non importa cioè l'importante è recuperare vita e sperare di non morire speriamo dai, eh? vuoi che dite? scusate ma come faccio? dai su non rompere le scatole vediamo se ce l'hanno con me allora spero che non ce l'abbiano con me allora mi vedete? yuhu non è che sono non è che mi volevo cioè io non ho fatto niente voi non avete visto niente quindi non è che mi devono fare qualcosa giusto? punto di domanda non sembra che mi vogliano fare niente perfetto ora siamo abbastanza al protetto no scherzavo scherzavo ho bisogno di altro cibo devo per forza mettermi ad ucciderli ma che caspita c'è qua sotto? ma scusate ma ci stiamo scherziamo? cioè stiamo scherzando vero? ora dove? ok là c'è il buco lo vedete là quel buco là io ho appena imparato come si fa lo youtuber cioè ho appena iniziato a farlo youtuber veloce veloce e no è la fine addio ciao cioè nel senso è finita questa serie ciao 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 e non voglio mai più farlo ok ok abbiamo preso le rotte in flash stiamo attenti là c'è lo scheletro lo scheletro cattivo che ci vuole fare del male e che ci vuole uccidere ok allora dobbiamo scapparcene via da questa parte duniziani dobbiamo stare tutti quanti attentissimi perché se qua magari ci uccide qualcuno è la fine dopo abbiamo perso e abbiamo finito la serie non vogliamo finire la serie giusto? allora là c'è un altro scheletro peccato che si spawnano questi scheletri mannaggia davvero è un peccato questo perché non voglio che spawnino perché allora scusate qua io vorrei che spawnassero solo i piglin però appunto è molto pericoloso questo posto quindi spawna di tutto e di più di tutto e di più allora porca miseria se no 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 avete visto avete visto avete visto questi qua mi vogliono ammazzare e e ma aiuto ciao così facciamo così veloce ok perfetto almeno almeno li abbiamo attirati no almeno è un lato positivo questo giusto no cioè voglio dire è un lato molto positivo questo scappa 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 basta mai più stiamo attenti stiamo attenti aiuto allora facciamo gli spazi perché deve venire qua perché lui è la nostra preda non so come sia possibile cioè secondo me è il contrario tipo io sono la sua preda però qua è la fine è la fine adesso allora però scusami cioè allora ti svegli io non sono qua a perdere tempo no perché scusate lunediani immagino che questa serie sia una cosa estremamente lenta ora che ci penso perché non è che possiamo stare qua a suicidarci praticamente ecco ce lo sapevo io è la fine cioè no non è possibile dove è andato a finire sto schifo questo è manco madonna adesso ti faccio fuori no scherzavo 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 no no brutto schifoso adesso adesso eh com'è che fai com'è che fai dimmi un po' mi ha dato la sua spada d'oro cosa me ne faccio della spada d'oro secondo te io ho bisogno di cibo mica della tua schifosa spada d'oro ma io che caspita ne faccio scusate questa ha 4 di attack damage eppure è bella mamma mia allora forse è leggermente più potente la spada d'oro ma perché è più veloce capito si ricarica più in fretta però tutto qua cioè nel senso è veramente una cosa impossibile da sopravvivere questo nether cioè nel senso soprattutto no perché poi dopo devi stare attento a non morire eccetera ok sapete cosa facciamo nel prossimo episodio andiamo a fare una piccola e veloce ovviamente spedizione per l'overworld e voi direte ma dunni si è appena detto che devi sopravvivere nel nether sì ma noi possiamo andare nell'overworld ma per poco per poco nell'overworld devo dire oh caspita forse questo ci vuole uccidere allora dobbiamo stare attenti perché qua ci possiamo morire in due secondi eccoci lo sapevo no 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 non ci vuole fare niente oh che carino bravo molto bravo allora dobbiamo fare una veloce spedizione nell'overworld per prendere sia del ferro e sia assolutamente del cibo perché il cibo è fondamentale e quindi io direi che nel prossimo episodio faremo questa cosa ma per ora inizio a scavare magari la la scala che porta su vedete e oh stiamo attento ehi ma sei pazzo avete visto ma perché stava bene no vabbè vabbè comunque noi ci vediamo nel prossimo episodio prima che ci moriamo almeno cioè spero che in questo qua non ci siamo morti non ci siamo morti ok e spero che non lo so non ci moriremo nemmeno nel prossimo nel prossimo non penso perché andremo nell'overworld semplicissimo così almeno ci faremo anche una un'armatura in ferro se ce la facciamo ma che lì lo faccio off camera non lo so comunque se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete p no aspetta scrivete gold nugget eh gold nugget c'è scritto qua come si scrive gold nugget che sarebbe la gold nugget e quindi noi dunisiani ci vediamo al prossimo video ciao ciao